Informatissimi i pescaresi della visita di ieri in città dell'Archistar dello Yuzua Inglas Toyo Ito. Siamo andati in piazza Salotto a chiedere cosa pensano di un bicchierone bisso o di un'altra sua opera e sostanzialmente c'è stato risposto che ben venga qualcosa per impreziosire una piazza simbolo della città ma non necessariamente con la firma di un archistar giapponese. Se torniamo al bicchierone non è che facciamo male, non è che facciamo male. Comunque Pescara già è bella di suo, serve soltanto di arricchirla, non di spogliarla. È positivo, se ci regala qualcosa, visto che ha fatto quella... Se è gratuito regalerà gratuito. Senza alcun costo hanno detto. Eh, va bene, ben venga, è sempre un'opera... Non so, che lo faccio. Ma le piacerebbe rivedere quella stessa opera qui in piazza Salotto? Sinceramente l'arte poco mi interessa. Però qualcosa ci sarebbe bene? Beh, sì, sicuramente. Sì, ma ci sarebbe bene un'opera d'arte. Quella non mi piaceva particolarmente, però... Bene, se lui ha deciso di donare alla città una sua opera d'arte, noi siamo più che contenti anche per come era andata. Perché comunque l'opera alla città era costata parecchio, era diventata un simbolo di piazza Salotto, di conseguenza siamo soltanto che felici. Ti piacerebbe la stessa identica opera? No, preferirei che l'artista facesse qualcosa di diverso. Innanzitutto pensiamo che non sia il caso di usare uno scultore giapponese, perché ci sono tante opere di artisti abruzzesi che si potrebbero usare. E se offrisse l'identica opera a lei? Assolutamente no, ero contrario all'epoca e sarei contrario ancora adesso. Non esiste. Abbiamo un cascella che potrebbe essere bellissimo usato per un'opera sua qui, a posto di usare Toyo Ito, che onestamente, scusate la mia ignoranza, ma non so nemmeno chi sia. Siamo uno scultore italiano, non vedo perché dobbiamo andare a finire in Giappone. Se siamo sullo stesso genere è meglio di no. E' stata pagata, è successo quello che è successo e sono convinto che gli hanno pagato anche il viaggio di ritorno al signore ieri. Proprio in casa no. Ma un'altra opera? Un'altra opera sì. Sempre sua però? No, no. Un'altra opera, un altro artista? Un altro locale, un altro stesso, diciamo. Tipo? Una fontana? Una fontana, un monumento che prese d'annunzio, insomma proprio questo, per l'amore di Dio. E lui ha pensato? Chi gli dà il permesso, cioè chi gli dà questa facoltà di pensarlo, più che altro. E tengi le facce da armetterla.